Bella ragazzi, non tutti voi penso sappiano usare non tanto il calibro, questo qua è un calibro, quanto il nonio. Qua abbiamo una serie di numeri con tutte queste linee qua, praticamente è una scala, ognuno è distante un centimetro, parlando rosamente, 12, 13, 14, praticamente 10 mm distanti. Questi sono i millimetri tra l'uno e l'altro, in mezzo c'è una linea più lunga, sono 5 mm, tipo 85, 90, 95, 100 eccetera, vabbè, tanti di voi lo sanno. Se io devo vedere che chiave ci vuole per avvitare questo esagono, prendo il calibro, guardo, sì più o meno 12, ok, ci va una 12, ma se io voglio sapere quant'è realmente il diametro qua, ad esempio, o con precisione, o il diametro di questo, faccio questa cosa, allora, giro il calibro così vedete, allora bisogna tenere un po', allora questo serve a sbloccare per farlo scorrere, poi arriva lì, si blocca, l'ideale è che il pezzo sia un po' concentrato, allora cosa leggeteli? Leggete un 20 scarso, 20 scarso, allora andiamo a vedere queste lineette qua, ce ne sarà una che coincide precisamente o quasi con quelle che usate enormemente, in questo caso lo 0 è un po' spostato come è spostato lo 0 qua, con il 20, ma il 9, il 9 e mezzetto dopo, il 9 è centrato su questa lineetta qua, su una casuale, dovete trovare tra queste, quale di queste lineette verso di voi va a coincidere con una qualsiasi di queste, quando coincide perfettamente, allora ditte, 20 scarso, quindi è 19,9, questo è l'uso del nonno, facciamo un'altra misura, vediamo questo che è stato tornito a caso, allora qua vediamo ad esempio 8, lo 0 corrisponde con un 8, ma è abbondante, è un po' oltre l'8, andiamo a cercare la lineetta, il 2 coincide più bene che col 2, vedete 2 questo, più bene che col 2 mezzo 3 e l'1, un po' troppo va bene il 2, 8,2. Ok, se vogliamo fare misure più accurate abbiamo un altro apparecchio, un altro strumento di misura, sono questi, sono i micrometri, questo micrometro qua fa da una misura minima di 25 mm di diametro, non riesce a avvicinarsi di più, fino a 50 mm di diametro, un'escursione di 25 mm, questo fa da 50 mm, cioè quello che arrivava a misura di questo al massimo, a 75 mm, poi abbiamo, ad esempio, ne vediamo, ne abbiamo tanti altri, questo fa da 0 a 25 mm, quindi 0, 25, 25, 50 mm, 50, 50, 75 mm, più grosso non mi serve perché non lavoro pezzi così grossi, poi c'è questo, che di nuovo 0, 25 mm, questo 0, 25 mm, più recente, più l'ho tarato, sono certo della sua misura, questi due qua devo ancora vederli, questo e questo, devo un attimo controllarli, che me l'hanno regalati un anziano signore da poco, questo anche 0, 25, questo invece è comprato a una fiera, è un micrometro scrauso, si sente proprio come gira, la vicino al microfono per far sentire il rumore che fa, gira secco, è disassato, è disassato, ha del gioco, è una cosa cinese, che è proprio rossissima, quindi se dovete comprare una strumento del genere, non lesinate sul costo. Allora, dicevamo, come funziona questo? Questo serve a bloccare, così si sblocca, così si blocca, se si prende una misura, poi si esce, si può bloccare per mantenere che scontodando non cambi e poi si legge con calma. Allora, cosa abbiamo? Una scala, diciamo, circolare e un trattino lì, un trattino che è longitudinale sul pezzo fisso, questo ci gira. Lungo questo trattino appaiono anche delle linette, una scala anche lì, dove c'è uno zero, aumentando, arriviamo a un 5, che serve da 5 mm e così via, fino a 25. Allora, funziona così, che io quando vado a zero, se non c'è sporcizia in mezzo, perché questo risente anche di un granellino, si può misurare lo spessore della carta, anche delle cartine da sigarette. Questa è una frizione, quando voi stringete il pezzo, non dovete stringere questo, perché andrebbe a forzare la vite, se invece stringete con questa, vedete, ad agio, senza dare il colpo, lo zero coincide con lo zero, è tarabile, c'è un metodo per tararlo, se si stara. Allora, cosa abbiamo? Girando abbiamo 5 centesimi, 10 centesimi, dovete tenere conto questa, questa scala circolare sulla linea verticale, su quella linea orizzontale, vabbè. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 0. Quando siamo a zero, siamo distanti dallo zero, quello fisso, su quella barra lì, e appare, non so se si vede, una linetta, adesso ve la faccio, che sarebbero il mezzo millimetro sarebbe, perciò siamo arrivati a 45, 50 centesimi, ossia mezzo millimetro, ricominciamo, quindi 50 centesimi, quindi 55 centesimi, e ricominciamo il giro, 60, 65, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a 100 centesimi, ossia un millimetro, e infatti compare la linea del millimetro. Allora, perché ci sono queste guancette qua di plastica in tutti, una volta erano anche di avorio, addirittura in quegli antichi altri materiali? Perché, essendo uno strumento di precisione, noi non dobbiamo scaldare il metallo, non dovremmo mai toccarlo, anche con questa plastica dovremmo usarlo tenendolo poco tempo in mano, perché, se scaldassimo questa zona di qua, ci sarebbe una dilatazione che si aprirebbe, e scaldando questa costa dietro, tenderebbe a chiudersi, queste piccole variazioni potrebbero spostare di frazioni la misura, perciò si tiene sempre, con le dita centrate su tutta la larghezza del sistema. Allora, andiamo a misurare un pezzo. Misuriamo, ad esempio, questo diametro qua. Ok. Devo stare il diametro dal minte rispetto al centro. Comunque, se è anche un po' spostato non perfettamente, essendo perfettamente PA nelle due superfici di misura, queste che vedete, non vi fa alza la misura, ma l'ideale è stare più possibilmente al centro. Poi si gira la frizione. Un po' fin qua mi preferisco. Continua a muoversi. Ok. Allora, questo è da alluminio, posso sfilarlo tranquillamente. Cosa leggiamo? 15, sta per comparire il 20, ma non, allora, 1, 2, 3, 4, non compare, quindi siamo a 19, 19, allora, ecco, 19 millimetri di diametro e dovete aggiungerci il 5 millimetri, dunque, ah no, se eravamo sullo 0 erano 19,5, invece è 19,45, 5,46, 19,46 di diametro. Anzi, ancora un pezzettino, 19,462, se vogliamo dividere a occhio tra queste due lineette. E questa è la misura con un micrometro, ci sono anche dei micrometri, micrometri, proprio, che vedono il millesimo di millimetro, costano un botto. servono quando si lavorano pezzi rettificati, che si rettificano pezzi di altissima precisione, eccetera, 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 mettiamolo a posto. questo, ho avvitato tutto, se no non entra. Questa chiavetta serve, poi, a smontarlo, contro l'interno e anche a tararlo. C'è qualcosa che non quadra, forse è al contrario, ecco, così, ok. Allora, passiamo ad un altro attrezzo. Ah no, torniamo un attimo ai diametri. Questi sono sistemi rozzi di misura, quasi da falegname o da meccanico fabbro di un tempo. Questo qua è veramente antico, era di mio bisnonno, che era nato nel 1874, quindi potete immaginare quanti anni. Questo è un po' più recente e ha anche una vite per andare, ad esempio, a prendere una misura. Questo qua ha una vite e anche una molla che lo tiene divaricato per fare questo lavoro per presto. E uno va a prendersi sta misura qua e poi con calma dice passa, non passa, adesso passa, ci siamo giusti, poi la va a controllare così, vabbè, o per comparare dei pezzi, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo visto il micrometro, abbiamo visto il calvelo, abbiamo visto questi. Passiamo a questo. Questo è un contafiletti. Allora, qua c'è una sezione e qua un'altra sezione. Questa sezione sono misure, passi metrici, dei filetti metrici. Quest'altra sezione sono i passi Vituort inglesi. L'unificazione Vituort risale al 1844. È stata la prima unificazione al mondo un po' importante per fare le viti tutte uguali perché sennò uno aveva un pezzo fatto da un fabbro, da un tecnico e poi questo tecnico moriva, oppure questo qua andava a avvitare da un'altra parte e doveva trovare un altro che facesse il pezzo con quelle viti, doveva fare le viti apposta, eccetera, eccetera. Diventavano matti una volta. Allora, come funziona? Come si misurano i filetti? Allora, questa qua è una vite M8. È una vite che è circa 8 mm di diametro esterno, sono sempre leggermente più piccole, tipo 7,8 mm quelle del commercio e a un dato passo ogni giro, cosa fa questa vite? Si sposta, si svita, fa un altro giro, si svita, si svita ogni giro completo di 360 gradi si svita. Il passo è misurato, si misura infatti in millimetri a giro, quanto si sposta in un giro di quanti millimetri. Allora, andiamo nelle metriche, perché questa è una metrica, le viti sono rarissime ormai, una volta erano comuni, le viti dal ferramenta fino agli anni 50 si trovavano quelle col passo vitu largo antiche. mentre adesso, allora, qua abbiamo questi che hanno scritto i passi, qua c'è scritto 1,25. Andiamo a provarlo. Calza perfettamente. Calza perfettamente perché l'M8, ossia metrica 8, ha il passo 1,25. Ma ci sono delle viti, sempre da 8, M8, che una volta erano chiamate M8, questa MA, questo passo. Poi MB, il passo più fine, sempre lo stesso diametro, MC, quello finissimo per attrezzature meccaniche, cose particolari come le viti del micrometro, ad esempio, che sono finissime. Allora, 8x1,25, cioè ogni giro entra nel dado di un millimetro virgola, 25. Poi cosa abbiamo? Questa, andiamo a vedere cos'è. Questi diventano sempre più grossi. Se andiamo di qua, di qua ci sono i viti, sempre lo stesso lato, però da questa parte abbiamo, continuiamo sempre più nel piccolo. Abbiamo questa, c'è scritto 1, calza perfettamente. È M6x1. Allora, tornando all'8, facciamo vedere che se noi mettiamo, che questo è quello inferiore a quello che abbiamo usato prima, se usiamo questo, che abbiamo usato quella 6, non combina niente, non c'entra niente, non si incastra. Con l'1,25 si incastra perfettamente, anche senza guardare. Si sente proprio perché si sente come, come se fosse una cosa liscia, appoggiata su un piano liscio che non traballa, mentre se il passo è sbagliato, come andiamo nel successivo, traballa è tutta una cosa che non combina niente. Allora, passiamo un attimo a farvi vedere una cosa. Queste qua sono viti vecchissime, passo Witwold, quel passo inglese, è un'unificazione inglese. Allora, andiamo a vedere che cosa cavolo è. Vediamo un po', allora, a vederlo è fine, forse questi qua. Allora, proviamo, no, questo qua è troppo grosso. Questo qua, questo qua è grosso, sì. Questo è grosso, allora dobbiamo andare nella parte di là e vedere, questi qua sono i metrici, via, leviamoli. Qua c'è il più grosso della parte di là. No, no. Ci balla così, ci barcheggia sopra. Vediamo questo, 20, ah forse me lo son saltato, questo qua. Scusate, forse non l'ho visto bene. E' 16. 14, no. 16 Witwold. Quindi questa vite qua, allora, le Witwold si misurano così. Si guarda il diametro, che purtroppo non è, non abbiamo il calibro con la doppia scala in pollici, perché il diametro sarebbe da leggere con la scala in pollici. Questa qua è una 5 sedicesimi. Il diametro 5 sedicesimi di pollice, purtroppo non abbiamo, ce l'ho da un'altra parte, il calibro quello giusto. Abbiamo visto che il passo è 16, ma cosa vuol dire? Non sono 16 pollici a giro, è al contrario di quello europeo. Mentre quello europeo sono i millimetri che compie la vite assialmente durante un giro di 660 gradi, in quello Witwold sono il numero dei filetti che stanno contati dentro a un pollice di lunghezza, che sarebbe 25,4 mm in pollice. E così abbiamo concluso con le viti, ma non proprio perché abbiamo da misurare questa. Vediamo se ci arriva, non lo so. Da cercare, questa qua è metrica, è una vite recente, la più grossa delle metriche, se ce l'abbiamo. ce l'abbiamo anche più grossa, questa qua è esagerata, è fin piccola questa vite. Questo è un passo troppo fine. E vanno a nascondersi da dietro. Ecco qua. Mettiamo via questi. Allora ho sbagliato, ho sbagliato, signori, signori. Stavo cercando dalla parte sbagliata, di andare su quelli metrici. Avevo ancora in mano i viti. Allora, grosso, questo forse. No, molto grosso. Ancora grosso. Eccolo qua. Coincide perfettamente. Quindi è un passo 3. Quindi abbiamo una vite da M22x3, che sono i millimetri che entrano nel dado facendoli compiere un giro. Ok, ancora una cosa. Filetti gas. Questi qua sono filetti che hanno la stessa misura del passo Wittworth, quella tot filetti a pollice. Il diametro, questo è un mezzo pollice di tubo filettato. Il nome del filetto è mezzo pollice gas. Ma questo mezzo pollice, che è la metà di 25,4, non c'entra niente. Perché? Se noi misuriamo l'esterno è 21 circa. Dentro, allora, metà di 25 è 12,5, 12,7. Andiamo a vedere. Un 12,7 lo facciamo col calibro. Non c'entra niente. Perché non c'entra niente con il nome della misura di questo filetto? Perché? Il diametro mezzo pollice era il diametro nei primi tubi per gli impianti del gas nell'ottocento, metà ottocento. Era il diametro interno del tubo, che era molto più piccolo il diametro interno di adesso. Perché? Allora avevano un acciaio di scarsissima qualità. E allora, facevano dei tubi spessi spessi, con un buchino piccolo, e avevamo il nostro tubo da mezzo pollice, che aveva poi questo filetto, che è un diametro determinato così dall'esterno, che è questo. Erano spessissimi i tubi, 20,5. Possiamo andare a vedere con i bitwall che cavolo di passo ha, il mezzo pollice gas, vediamo un attimo, piccolo, andiamo in quello più successivo qua, e vediamo se va bene, no. Allora in questi. Sono dalla parte bitwall qua. Allora, 17, filetti per pollice, 16, vediamo un attimo. 16 non va bene, 14. 14 filetti per pollice. Ok, abbiamo finito con i filetti, e andiamo a vedere un altro strumento. Questo è un comparatore. Non bisogna mai toccare l'astina, diciamo, nella sua parte cilindrica. Sente un po' il freddo. Allora, sente il freddo. Qua abbiamo una lancetta, un quadrante, una lancetta piccola con un suo quadrante piccolo. Qua abbiamo una regolazione per l'azzeramento, e abbiamo 0 qua e 0 qua. Questi sono i millimetri. Se io tiro su, segno, ho alzato di un millimetro, non so se vedete, un millimetro, due millimetri, tre millimetri, quattro e due millimetri. Allora, io tiro su a caso, sono meno di un millimetro, e vado a vedere che invece sul quadrante grosso mi dà 35. Abbiamo 0,35 mm, ossia 35 centesimi. Adesso, facciamo una cosa. Andiamo a montare. Qual è l'uso principale di questo strumento? L'uso principale, uno, è quello di misurare tante cose in serie, tipo si ha un piano rettificato, liscio, una colonnina che lo tiene, e uno deve misurare una serie di pezzi a vedere se il loro spessore rientra nella tolleranza. Allora cosa fa? Dice il mio sore, facciamo conto che sia qua, il mio spessore è, facciamo una cosa, no, questo non riesce andare, bisogna che lo tiro su. Vabbè, il mio spessore è tot virgola 9, quindi io so che i miei pezzi non devono superare, che ne so, ecco, non devono essere più o meno 10, più 10, meno 10 centesimi, oppure, se molto stretto, più o meno 5, più 5, meno 5 centesimi, eccetera, eccetera. Però serve anche a misurare l'eccentricità di un pezzo. Allora, noi lo montiamo ad esempio qua, però prima dobbiamo tornire un pezzo. Quindi andiamo avanti con il nostro tornio, facciamo una passatina, e poi andiamo avanti con il nostro tornio. Ok, abbiamo preparato un pezzo tornito. Ora, sistemiamo il nostro strumento su questo supporto. Poi ci sono altri supporti che poi vengono qua intorno, con una vite si stringe, io vado in modo rozzo, mi sono fatto sto pernetto. Lo inseriamo qua, blocchiamo questo che continua a girarmi, e avvitiamo un dado. Ok. Allora, tiriamo indietro. Andiamo, avanziamo verso il pezzo. Allora, bisogna dobbiamo aver cura che l'asse del comparatore sia, vada a coincidere con l'asse del pezzo da verificare, più o meno. Va bene, adesso stringiamo un attimo sto dadino, poi vediamo un secondo. Posso regolarlo di qua, oppure con due brugoloni lì, dopo averlo stretto qua. ce l'ho fatta a regolarlo tenendo lo solito. Allora, noi andiamo contro il pezzo. Svincoliamo il cambio del tornio in modo che sia libero il mandrino. Allora, mettiamo su zero. Abbiamo qualche colpetto che sia sesti. Ritoccare un po'. Ecco. Ora facciamo girare. E si muove pochissimo. Allora, ogni trattino è un centesimo. Ogni trattino di... Quindi, non ha un'eccentricità inferiore al centesimo. Ho visto che al massimo è arrivato tipo quattro millesimi, zero, quattro, perché tra un trattino e l'altro è andato di quattro rispetto di là a sei. Sì, non arriva al mezzo centesimo. Non ci arriva. Se noi andiamo a vedere invece qua che è rossissimo, è talmente irregolare che trema anche la lancetta. Fa questo lavoro. Volendo, impostando una scala graduata su un pezzo particolare, si possono vedere in base a tutti i gradi le variazioni di diametro. Può servire anche per controllare la precisione di una camma che si è lavorata. Una camma, sapete, quelle cose che hanno... Quelle che muovono le valvole, ad esempio, nei motori. Tante cose. Oppure, semplicemente, a verificare quando si è finito un pezzo, se è a posto o se è venuto male che per qualche motivo è diventato ovalizzato durante la lavorazione. Oppure, serve anche per centrare un pezzo sul mandrino con grande precisione sui mandrini, quelli con quattro griffe indipendenti, o a volte anche sul mandrino a tre interponendo degli spessori di carta di Spagna anche di carta normale a volte sotto una griffe si fanno tanti giochi finché non si riesce a dare ad esempio un'encentricità perché si vuole quella e si misura con questo. A questo punto non vedo altro che salutarvi. Mettete like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, guardate nella playlist. Abbiamo una playlist tutta su lavorazioni meccaniche cercate nelle playlist se vi interessa la meccanica e altre di altri generi. Bella ragazzi! Bella ragazzi!